Buongiorno a tutti e ben ritrovati per questo aggiornamento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Ci aspetta ancora qualche ora soleggiata, ma come possiamo vedere dal satellite in arrivo una perturbazione della Francia che interesserà la nostra regione nella giornata di domani, venerdì 7 aprile, porterà delle piogge anche a carattere di rovescio temporale per tutta la giornata. Tendenza al miglioramento per il weekend pasquale con giornate soleggiate, tuttavia rimane qualche condizione di instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e soprattutto nella giornata di domenica. Ma per sapere di più su questa tendenza vi consiglio di seguire i prossimi aggiornamenti sul sito ARPAL e sui canali ufficiali dell'agenzia. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao! Ciao!